Ciao! Ciao, ragazzi! Ciao, amico! Felice di rivederti! Benvenuto! Hooper, genna! Piacere mio! Qui Levi a ufficio, zona giorno e zona notte. Levi, tu ci aiuti! Certamente! La stanza ha quattro pareti bianche e aggiungeremo un tocco di colore. Oggi è un gran giorno. Abbiamo assemblato il letto. Prima che intervenissimo noi era grigio, disordinato e c'erano fili ovunque. Adesso è uno spettacolo. Sembra più spazioso, allegro, colorato e ordinato. Può ricevere i clienti e organizzare feste senza più vergognarsi. Ora questa casa lo rappresenta. Mi chiamo Antonio Ballatore. Non sono un designer qualunque. La mia filosofia? Azzarda o say-out. Stufi del solito beige? La soluzione è... Antonio Style.